Ciao a tutti ragazzi, io sono Diamond, siamo in compagnia di Dark Shadow nel suo canale e siamo in multiplayer su Titanfall Se non avete visto lo scorso episodio, link in descrizione Non ci sarà mai perchè mi dimenticherò E io prestigiato E io prestigiato Poi lui parte a fare l'intro così a caso D'ora in poi le farò lui l'intro Che ormai ha preso questo vizio Ah il casino che c'è dentro di me, beh non fatemi domande E quello è l'importante Non fatemi domande Diamonds, lo sai il motivo Che merda, che merda No questa qui la mappa faica, ci sta No, sono a livello 1, che merda Eh ma c'è un pezzo di c'è c'è post Eh senti che fa la cagna E mi uccide da dietro Cioè rendetemi conto Aspetta ma fassi sale Ha fatto inculare da un mod No ma non è un mod Ok Guardate che è pronto No 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 Quanto sei handicap? Sì tanto il mio titan che è pronto Tra 30 secondi è un titan di culo Guardate come dice Kino Uccisione Penso di merda di uno spettro Ok Ciocchinare così ci sta troppo Quindi Diamonds ti va di spiegare il mio casino che c'è dietro di me oppure no? Diamonds 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 sei sotto di me Inquadriamo Diamonds che guardate che bello che è Ehm Poi Lascia qualcuno Questo qui è un posto perfetto per cerchinare devo dire Comunque Ehm Diamonds alla fine del mio posto Non si è cambiato nome perchè è un pezzo di merda La microsoft è bugata si Però prima o poi lo farà Perchè Abbiamo provato a registrare quando si cambiava il nome ma Purtroppo non è Non ha funzionato e Quindi va a vedere la microsoft server non sono disponibile quindi lo faremo prima o poi R Ehm Ehm In seguito Ehm Ehm Cosa puro dire? Ehm Cacciapm Ciao Ehm 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 Beh è bellissimo stare qua si dice che nella gente è troppo felico devo dire la verità dai come si parla si succhiate e pezzenti che a livello 1 sono un boss più di voi mi hanno ucciso fuori male bordello facchiamo i culi a livello 1 nooo sono caduto comunque plettico e ucciderò questi soldati semplici della milizia però arriva Johnson boss 2-2-7 dietro e mi uccide ed è brutta qualche cosa comunque se tu lo sai che c'è il casino nooo non ti gioco il radio non lo so e c'è un tizio per il radio che è fantastica abbiamo in sciola dove è un po' di domanda e ci sta comunque bordello siamo ritornati sul posto per cerchinare sto sparando un tizio che ci sta il titolo ha seguito chi è il potizio di euro mi incontri non si sa però io che uccido qui qua c'è gente c'è uno spettro non posso uscire spettro di merda morite del cazzo spettro che te non siete altri spettro del cazzo nooo mmm boss e boss 2-3-2-3-7 mi ha rotto le palle enormemente è un pezzo di merda allora cambiamo postazione usiamo questa pistoletta del cazzo ciao Titan ma che ma vaffanculo mi hanno rubato il posto del cecchino sono dei pezzi di merda no e quel posto è solo mio non me lo potete rubare pezzi di croia che non siete ah si le granate vaffanculo pezzi si va bene dove cazzo sono esponata spiegatemelo allora qui e qua vole spostare il cecchino è solo mio non me lo potete rubare poi ma siete del di spettro oh livello 29 finalmente siamo saliti ci sta un po' finocchio di merda eh succede sì adesso ti faccio il culo col tolto bravo fai le culo col tolto ahhh succhia l'ho ucciso mi ha ucciso mi ha ucciso un bot ma vaffanculo mi ha ucciso un bot ma vaffanculo per cazzo si vabbè sei stronzo è pieno di stronzi è pieno di stronzi è pieno di stronzi c'è se ti fa uccidere da un bot sei proprio nooo è pieno di stronzi che non si capisce hanno un complotto contro di me guarda sono a livello 2 yeee bravo è il suo compleanno eee guarda il pezzo di merda che mi ha rubato il posto dal cecchino adesso ho uno stupro tanto è ancora lì? si che mi ha rubato il mio posto dal cecchino perchè ho un figlio di merda allora però l'ho ucciso no no non c'era devo vendicarmi non era la torre adesso sono io al mio posto dal cecchino oddio posso distruggere la nave boh non ti senti più sarà sicuramente nooo non andare via nooo perchè è pieno di spettre gli spettre sono pezzi di inverno no 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 dai perchè devo ricaricare i miei 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 parca uccisi stronzi di merda titan puttana auto titan del cazzo devi morire si bravo bravo sei morto sei morto bravo sei morto bravo dove sei titan titan guarda si nasconde che bello titan di merda si nasconde puliamo la nave grazie dove cazzo era la nave c'è un titan che mi schiaccia intanto possiamo mettere diamonds che non fa un cazzo guardate che bello che è il titan di diamonds cazzo questo qua è lui ed è ed è ed è ci sta ma si ho dato una ma la nave la nave è sono morto sai com'è e mi hanno distrutto mi hanno dato acquistare no distruggerai mai la nave è una merda mi hanno capestato cosa ci posso fare cioè sei un cacca culo ti fai capestare sei un cacca culo intanto nel menu sono più alto di te quindi stai zitto certo io sono a livello 2 e se fai schifo non è colpa mia è uccidi i bot che tu ti fai uccidere dai bot una volta e tu fai tu non fai cagare perché fai cagare fai cagare perché ti uccino i bot si si vabbè questo episodio è finito lasciate like scrivete i miei link sono salati per il canale in descrizione dai a molti saluta se no ti prenderanno per un maniaco sessuale da perché che hai il granotto dai devi salutare decentemente dai dai a molti saluta dai saluta dai ecco bello bello